Dalle ore 14 di domani sono previste ondate di calore per le quali la protezione civile ha emanato un avviso di criticità. Temperature in forte aumento, si teme per le fasce più fragili della popolazione. Situazione particolarmente preoccupante per le giornate di giovedì e venerdì. Il centro funzionale della protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di criticità per tutta la regione da domani per una durata di circa 66 ore. Sono previste temperature massime che soprattutto nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 potranno essere superiore ai valori medi stagionali di circa 5 o 6 gradi, associate a un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne potrà superare anche il 70% in condizione di scarsa ventilazione. La protezione civile regionale invita le autorità locali competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relativi alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti in auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arreggiati gli ambienti, provvedere a tenersi idratati bevendo tanta acqua e prestare attenzione anche agli animali domestici.